Saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento del fine settimana, il nostro appuntamento della domenica con Caffè in Farm, ovvero l'appuntamento con i follower del canale e soprattutto andremo come ogni fine settimana a passare un paio d'ore insieme ai follower del canale ed ai sostenitori, naturalmente sempre e solo sulla famosissima mappa Zappaland. Eccoci qua, allora andiamo a vedere un pochettino come stanno i nostri animalozzi così vediamo eventualmente e se c'è la necessità eventualmente di qualcosa noi andiamo a mettere, ovviamente abbiamo fatto abbiamo fatto una bella scorta di balle d'erba quindi naturalmente le nostre pecorelle avranno tantissimo tantissimo cibo in abbondanza. Nell'ultima live ovviamente ho acquistato anche un po' di mucche, abbiamo il nostro nettare, il nostro miele qua che aumenta sempre di più, l'ultima volta abbiamo acquistato anche il mulino. E direi che è stato un buon investimento perché dalle emissioni ovviamente oltre alla parte economica potremo anche, e andiamo ovviamente a poter vendere o eventualmente acquistare un panificio qualora ci fosse e quindi iniziare a rendere un po' più impegnativa e completa questa serie dedicata alla Zappaland. Allora ci facciamo un attimo un giro perché ora se non ricordo male il panificio qui non c'è. E approfitto come sempre per ringraziare tutti coloro che si iscrivono al canale quando suoni replica e quindi approfitto per ringraziare e abbiamo il nostro primo affezionatissimo amico live, il nostro mitico, mitico, mitico Leonardo. Buongiorno a te Leonardo e buona domenica. Per chi non lo conoscesse Leonardo è la mascotte di questo canale ma di tanti altri canali amici. E' un giovanissimo streamer, Leopoldo scusate, Leopoldo. Leopoldo. Ti chiamo per il nick perché essendo minore devo tutelare la tua privacy, comunque non ti preoccupare. Seguite l'amico Leonardo perché anche lui è molto bravo, è un bravo ragazzo. Allora che stavo facendo? Ah si stavo andando a vedere un attimo se c'è un forno. Mi pare che non ci sta. Casarai, questo è un altro spesso che dobbiamo fare. Filanda. Ok, ok, diciamo che il forno non c'è. Perfetto. Ah, ok. Ok, l'importante è che non è il tuo vero nome. Più che altro faccio per tutelarti, ecco. Allora, io direi intanto di dare un'occhiatina ai contrattini qua. E vabbè, piano piano. E allora facciamo così, diciamo al nostro Leonardo alias Leopoldo. Mi raccomando, impegnati che così poi quest'estate qua ti diverti. Invegnati a scuola, mi raccomando eh. Tanto lo so che tu sei un ragazzo molto molto serio. Allora, voglio, io quasi quasi. Vediamo subito qualche contrattino. Allora, fertilizzazione. Questi io quasi quasi li vado a fare. Uno. Due. E tre. Boccio mosso, mamma mia. Meglio, meglio avrà mosso, meglio avrà mosso. Altrimenti poi qua. Ci fai diventare a tutti quanti tristi eh. Un pochettino di impegno e poi. Poco pochi impegnos così. Cioè impegno è importante che poi così. Diventi una persona importante soprattutto che con la cultura. si fanno tante cose. Oh, fertilizzante. Giusto, giusto. Allora, campo. Eh, 12, 13 e 17. Quindi sono dall'altra parte. Sono quei campi grossi grossi. Il 12 sta qua vicino dall'altra parte del fiume. Vediamo un attimo. 12, 13 e 17, sì. Tutti quanti di là stanno. Mamma mia. Questo trattorino è bello usurato. effettivamente anche le riparazioni finiscono adesso. Mamma mia. Appena in tempo. C'è miseria. Wow, lei l'hai visto? Uè, Luciano carissimo. Scusami. Non ti ho visto. Stavo attraversando il passaggio a livello. Allora, ci è mancato poco che facesse scresce, scresce, scresce. Oh, yes, yes. Luciano, tu se vuoi, lo sai, sei sempre il benvenuto. Ah, ok, come... Vai, vai, su, su. Che poi... Chissà se è un nome composto. C'è da Leo e Poldo. È tutto da scoprire. Ma... Leopoldo è sempre lui. No! Leonardo. È molto più impegnativo questo Leonardo da Vinci. È il nostro... È la nostra mascotte, Luciano. È la mascotte del canale, Leonardo. Un bravissimo ragazzo. Un giovanissimo follower del canale. Ed è sempre presente. Un miscuglio, quindi un mix. Un mix originale. Oh, yes, oh, yes. Ma qua potevano raccogliere un po' di piede. Un... Ciò. Ti va bene. Un kiss. Ma qua ma qua ha. Un... Su, su. che da mangiare le bucurelle alle mucche e fra poco forse dobbiamo spallare anche la la cosa che si concime anche se per il momento ce n'è poco però per il momento oh la la oh la la 1 2 3 4 1 5 6 7 8 9 10 bienvenuti a tutti i benvenuti a il nostro randesvo di dimanche mattina benvenuti alla Zappaland, benvenuti alla Zappaland, benvenuti alla Zappaland benvenuti alla nostra appuntamento del mattino di domani con la Zappaland or Caffeine Farm, or Caffeine Farm, here on our below it, below it, map, Zappaland oh yes oh yes e ovviamente vorrei un buon benvenuto in coppa mapper a Zappaland benvenuti all'appuntamento alla domenica mattina e oggi passiamo una parola ora ci facciamo, ci pigliamo un caffè e poi facciamo pure l'aperitì e poi ci andiamo pure a mangiare eh Leonardo devi sapere che questo canale qui praticamente eh Sari, esatto, carica pappatoria devi sapere che questo canale qua faceva, fa ogni tanto, mi ricordo di 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 fare una live multilingue devi sapere che ci sono anche alcune persone che seguono questo canale che non non parlano l'italiano ma io non sono italiani e quindi ecco che per non farle sentire le escluse cerco di parlare quelle due tre lingue che più o meno conosco e questa è la situation di e non a caso c'è scritto it fr e gb italiano inglese francese e una volta poi aveva aggiunto anche che ne ha che è napoletano quindi ogni tanto quando mi ricordo come adesso faccio anche la parlatina la chiacchieratella in napolitano napolitanamente parlando ah ogni tanto ogni tanto fa bene lisciare il gargarozzo anche se non si ha sete anzi proprio in questo momento per chi fa le live io vi consiglio sempre ogni tanto di sorsaggiare un po' d'acqua perché vi vi scioglie un po' l'avoccas quella tiene un po' più non so se si può dire lubrificata però diciamo sì un po' più liscia ecco allora dopo abbiamo due contratti di simino ok 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 vin il nostro mulino sta ancora scaricando altra altro materiale sta convertendo il frumento mi pare dell'ultima missione uh alice carissimo mamma mia alice scusami era così era così presa che manco l'ho vista un applauso alla nostra alice è la nostra prima amica che ha partecipato alla live su questo canale qua multiplayer e lei ha aperto le danze come stai carissima buongiorno anche a te e buona domenica e buona carica caffeina se non l'hai fatta forse mi sono rotto un video in che senso nel senso che sei caduto o hai preso una stop o hai preso una stop fa pigliare un'invarta zio fabrice qua e come fai per occupare aia aia quando succedono queste cose qua ti conviene sempre farti guardare da qualcuno ok a volte se non ti furi in tempo poi se costa le porti indietro per sempre te lo dico per esperienza personale per un diciamo così una contusione che ho preso ed era anche abbastanza importante e magari non ho fatto la cura giusta c'ho un piccolo dolore fastidio al ginocchio perché scivolai dallo scooter e cadi a terra giusto giusto dieci anni fa e ogni tanto quando cambiano le temperature ogni tanto pizzico e beh però tu sei giovane cioè tu hai una vita davanti quindi tu proprio devi stare e sta frisca e tu come dice a napoli devi stare bello pimpante pim pam peri pim pam pum eh è vero che diciamo sei una persona di sostanza nel senso che sei sei energico però bisogna guardare a lungo andare cose che cose che cose che anche io non facevo allo d'età eh che poi dopo ho iniziato a rifletterci bene però ti ho detto se se c'è qualche fastidio insomma senza far preoccupare pure il tuo papà è la tua mamma dice io sono andato veloce sei fermata la catena almeno vedi se sei una contusione cioè sei una cosa del muscolo sei avuto uno strappo oppure se ho un problema però se non sei caduto già è qualcosa le uso non fare cuscini Alice se vuoi come sempre puoi entrare in partita e non non crearti problemi sei sempre la benvenuta qualcosina da fare più o meno ci sta sempre oh yes oh yes allora siamo al mese di settembre quindi a maggio si piantano le vigne cosa che manca ho 91% ottimo ovviamente ovviamente quando vi chiedo la gentilezza se arriva la pubblicità poi avvisatemi che così eventualmente se ho espresso un concetto interessante quindi lo 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 ridico così diciamo non vi perdete nulla di anche se nulla di partita non vi perdete il filo del discorso Ah mi dispiace Spero che sia roba di poco conto Alice Questo periodacci qua Tra mal di colore Raffreddore, influenza e altre cose Insomma C'è la miseria Vabbè non ti preoccupare ti faccio un po' di compagnia Mi tengo un po' di compagnia Quest'ora è qua Luciano ma te ne sei scappato Luciano non ti preoccupare Che non si paga per venire in far Oh sono arrivati Campo 13 Eccolo qua Allora sistemiamoci Qua era 12, 13 e 17 Mi sono andato al 17 Ma va bene dai Ho fatto il giro del monte Ah vabbè L'importante è che Diciamo Sia qualcosa di risolvibile Ecco Che adesso qua Arriva la psicosi Quando abbiamo il raffreddore Subito pensiamo A quella cosa là Infatti Io Il mal di colore Il raffreddore La feb la so riconoscere fin troppo bene E Così come sono attento In generale nella vita Ai piccoli dettagli Che siano le foto Queste cose qua Perché sono un grande appassionato di fotografia Ovviamente vado In maniera naturale Se c'è qualcosa di proprio anomalo Anomalo Lo percepisco subito Questione di esercizio E questione pure di Autocontrollo Non so se il termine si è giusto Però è fatto di conoscere bene Le proprie sensazioni Comunque aiuta Comunque caro Alice Non ti preoccupare Zia che qua Oggi vediamo di fare Un po' di Everons Pure per ti Anzi Anzi Visto che questo mezzo Eh Quasi quasi Andiamo Finisco sta missione E metto La targa Con il tuo nome Uppola Dietro Questo macchinario qua Che praticamente ci fa fare tanti Everons Dietro la Come si chiama qua La 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 Quindi tiro il macchinario Per fertilizzare Ecco la fertilizzatrice Barra Calcificatrice Insomma Lo metto Prima nuovo Eh Ovviamente Ci do una bella pulitina Un po' e dopo Andiamo a mettere Il targhino Come abbiamo fatto pure Con il nostro amico Leo Volto La nostra mascotte Oh Lui è sempre presente Bravo Leo Ma a proposito di A proposito di fare il bravo I commiti Ce li hai fatti O li fai più tardi Mi raccomando Non ti scordare Di fare i commiti Perché altrimenti Poi fai pigliare Col A zio Fabrizio A zio Alessandro A zio Ale Asso Aie aie Quindi mi raccomando Prima il dovere E poi quando c'è te Se non riesci A guardarci live Non ti preoccupare Che così Poi Puoi sempre guardare Le repliche Anche se Zio qua Non è che fare Anche io però Al me Se tu vuoi sparsi A me Vieni a fare Voi Che ti facci compagnia A parte le repliche Però di notte si dorme Eh E Leo Ah ok Bravo Bravo Allora Bravo Ti faccio un bell'applauso E ti dedico anche Il famosissimo sponsor Che ti piace tanto Il famosissimo Caffè patacca Un bel caffè patacca Dedicato Al nostro Alla nostra mascotte Caffè patacca Il caffè che spacca Alt d'app E' vero E' vero E' vero E' vero E' vero Tutti questi prodotti qua Frumento Quel qua Che altro c'è Cos'altro c'è Frumento Frumento Andranno a finire Tutti nel mulino E' il primo investimento Che vi consiglio di fare Acquistate il mulino Sulla mappa E poi Attrezzatura Quindi una trebbia Anche non particolarmente Costosa all'inizio Mezzi piccolini Per aranciare Un po' Poi dopo Mano Mano Che Caffè patacca Il caffè che spacca Oui Michele Buongiorno E buona carica Caffeina Il mitico Michele Alias El Mere Buongiorno A te E ben Ritornato Ben ritrovato Oh yes Oh yes Buongiorno A te Buona carica Caffeina Fatta E se non l'hai fatta C'hai C'hai anche offerto Il caffè Ottimo Il mitico Caffè patacca Caffè Caffeinato O il decaffeinato Quell'altro là Il decaffeinato E quello là Diciamo un pochettino Più light Mentre invece Il caffè patacca E il caffè che spacca E anche il caffè moreno E il sonno viene meno Ecco Sono due ottimi caffè Sono due ottimi caffè E ben ritrovati Facciamo anche un bello shootout Alla mitica azienda agricola SNC E facciamo anche un bel Applausi Applausi Oh yes Oh yes Alla vigna Eh ragazzi Anche io devo mettere Devo piantare un po' Di vigne Allora questo Vado portare in parma Quasi Ragazzi come sempre Se volete Partecipare Siete i benvenuti Siete i benvenuti Con punto esclamativo Discord Entrate nel server Discord Che così Riusciamo a comunicare In tempo reale Poi La partita si chiama Dub Logistica 1 Twitch Siamo in crossplay Quindi se siete Utenti da console Non vi preoccupate Che Che potete entrare In partita Oh yes Oh yes Qua tutto a posto Cara azienda Ah e vabbè Non ti preoccupare Tra poco si avvicina Pure la primavera Anzi Ma Scusate ma È il 21 Nuovo Nella primavera O sbaglio Il giorno di primavera Sì Guarda che È il 21 Se non ricordo male Chat Quindi In teoria Dovrebbe essere domani Primavera Respiriamo Solaria E la primavera E la primavera E la primavera Allora Ah mi stavo già scordando Di fare una cosa Allora intanto Sciocchiamo un attimo Il mezzo E la primavera E poi mettiamo Il targhino Cambiamo la targa Qui E la primavera Non è la primavera Non è la primavera Il trigger Allora Allora Configura Targa Allora 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 Cambiamo targa E mettiamo Alice Così Così abbiamo Un mezzo Così abbiamo un mezzo Come è la Alice Vediamo se c'è ancora Schiva Vediamo se ci entra Allora Mettiamo Uno spazio Ah no Senza lo spazio Giusto Colore Colore Mettiamo Un bel rosa Ecco qua Voilà Oh yes Promessa mantenuta Ogni promessa È debito Allora Leo Se non ricordo male Dovrebbe Eserci il cassone Con Il suo no Vediamo un po' Che modo mi riguarda Ok Leo Buon divertimento Grazie ancora Per essere passato In live E Ci becchiamo Alle prossime Ciao Aio Un po' più Così Ja K K Ah posso Che ha fatto Si è scangiato Ah ok Allora Poi vediamo Un'altra missione Ah L'irrorazione Ok Allora L'irrorazione Willa Buongiorno a te Carissimo Ben Ritornato È da un sacco Di tempo Che non ti Leggi Più in chat Come sai Soprattutto Ben Ritornato Carissimo Carissimo Il tarmino Eccolo qua Sì Allora L'altra missione È Irrorazione Allora L'irrorazione La posso fare Anche con Mezzi piccoli Ok Ah è Eh ma Quella È impegnativa Questa Il Diciamo così Il ruolo Del Produttore Di contenuti Ci vuole Costanza Ci vuole Pazienza Ci vuole Eh Non è facile Però Ci vuole Tanto impegno Veramente Tanti impegni Tu Quello che Riesci a Produrre A fare Lo fai Perché Se Produci La quantità Ma non Produci La qualità Per quanto Uno possa Fare Visualizzazioni Però Poi Bisogna Sempre Vedire Diciamo Così Se la Cosa È Non È Fatta In un Modo Non Adeguata Ecco Allora Visto che Ci troviamo Qua Cambiamo La targa E mettiamo Ita Allora Mettiamo Ita Ita 2165 21 Aspetta Ma facciamo Così Ita Mettiamo 0 21 65 Così Riempiamo La targa Oh Isita Anche Tu È Il tuo Mezzo È La tua Targa Con Il tuo Atrizio Mi raccomando Torna un po' Più Spesso Non è che ci abbandono Poi diventi Importante Diventi Un bravissimo Produttore Di contenuti E che fai Ci lascia a piedi Scherzo Scherzo Quando c'hai tempo Devo perdere Passa qua Non ti preoccupare Opla Si è pure seduto Il mezzo Allora Mille euro Vabbè ma Mamma mia Mille euro Allora Campo 7 Campo 7 Ia Sa Di là Al di là Della ferrovia Allora E Poi Sono qua Ah Io qua Non ho ancora Piantato niente Dove devo dire Cosa posso Piantare Allora Allora Orzo Colza Allora Colza Colza Nine Allora Direi di mettere Orzo Orze Già la connessione Ah Vabbè Ma tu hai un canale Youtube Ita Oltre a Twitch Se mi mandi Il link Tramite messaggio Privato Così Ogni tanto Ti vengo a Ti vengo a Spiare No A meno Ogni tanto Posso venire a A guardare I tuoi contenuti E se posso Darti una mano Un consiglio Per Eventualmente Diciamo così Parti Poterti Far Ulteriormente Migliorare Insomma Lo faccio Con enorme Piacere No Vai Vai Wow Questa è la Seconda Volta Mamma mia Ragazzi Incredibile Questa è la Seconda Volta Che Ho rischiato Di essere Buttato Per l'aria Dal Treno Mamma mia Ah Ma è questo Con il trattore Dello Presidentissimo Perciò Non mi ha Fatto Ecco Questo Vorrebbe essere Frumento Ah Colsa Ma quasi Quasi La colsa Si potrebbe Anche Mettere Giusto Poi Devo dire Quanto Mi costa Il frantuglio Perché Potrei Trasformare La colza In olio Cosa Che non Ho ancora Fatta Anche se Forse Più Che il frantuglio Dovrei Dovrei Mettere Il panificio Si Modiamo un attimino Quanto riusciamo a raccimolare Qua Qua Guida Guida Luven carissimo Luven 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 Buongiorno Buongiorno 169 Is Another Funny Streamer He Came From Cusconi And I Want To Say Thank you So Much Tutta Dovrei 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 Error 404 Andiamo Bene Andiamo Luven Come è andata Poi La caccia Mi pare Se non ricordo male Io ho una memoria curta Se non ricordo male Eri in Livess Insieme Al mitico Drift Ieri sera Se non ricordo male Eri Se non ricordo male Faccio qualche figuraccia No io non eri Ero il mio sosio Facciamo così Per evitare la figuraccia Dico Come è andata La tua La tua caccia La Visto che è uscito Scritto Che hai giocato Hunter Ado yes Oh yes Hunter Cold Wild Chi ha capinto Ah Quindi adesso Drift Sarà Sarà Driftando Sul cuscino Sarà Sarà Ancora Diciamo così Facendo la carica A batteria Insomma Vi siete divertiti Per parlare di notte Vuol dire che Eravate così Presi Avete poi dovuto Parlare piano Ah Azzurrissimo A propos Azzurrissimo Mitico Mitico Azzurrissimo E chi ha vinto Fra i tre Fra voi tre Secondo me Hai vinto tu O ha vinto Il capo Drift Il capo Azzurrissimo Azzurrissimo Eh Meno male Secondo me però Qualcuno di voi ha preso Qualcosa in più Qualche punto in più Pareto No Vabbè Sono 800 punti in più Per fare il modo Adesso E' Sto 800 punti in più Eh Sciocchezze Pincellacca Come che dice Dato Ah Immagini Posso solo Immaginare Fortunatamente E' una cosa Diciamo Virtuale Questa qua Oh yes Oh yes Lupan Lupan Mi raccomando Andate a seguire Lupen Andate a seguire Eita 2165 Alice Schisa Andate a seguire Eh A me se volete E seguite E sostenete Come dico sempre I vostri Beniamini Streamers E soprattutto Quando c'è la pubblicità Non girate Perché In quel modo Li potrete Sostenere In maniera Gratuita Il Canale E quindi Guardando la pubblicità Quei 30 secondi Il canale Guadagnerà Qualche centesimo E quindi A gratis Ci fate Andare avanti Allora Accogliere 12.000 Waiu 12.000 Eh Vabbè Ovviamente E noi Ci buttiamo A capofitto Ok Lupen Grazie ancora Per essere passato In lives Ti auguro Una buona Continuazione Di giornata Se non ci sentiamo O se non Ci Sentiamo In giornata Ti auguro Una buona Continuazione Di giornata Una buona Carica Pappatoria Come dico io Qua E Poi ci becchiamo Sicuramente Tra di Ah ok Allora ci sto Qua Sì sì Io fino Alle 12 Fin che C'escono I contratti Qua Ci sono Ci becchiamo Dopo Allora Lupen Grazie Il mitico Gianluca Un altro Amico E sostenitore Del canale Caro Gianluca Sei sempre Benvenuto Se vuoi Come ho detto Anche All'amico Lupan Come ho detto Ad altri Se volete Potete Raggiungermi Nella partita Un esclamativo Discord Se non Siete iscritti Se non siete Nel server Discord Che almeno Così Possiamo Comunicare In maniera Rapida E tempestitua Oh Si è bloccato E la partita È sempre La stessa Si chiama Dub Logistica Uno Twitch Oh yes Oh yes No Yes Oh yes L'ho detto Io E prima Di entrare Se hai Un nick Diverso Dal Nick Di Twitch Qua Su Su Steam O in generale Sulla partita Basta che mi dici Qual è il nick Che così Io poi Quando mi arriva La notifica Ti lascio entrare Subito Subito Allora Questo Lo metto qua Cambiamo Mezzo Allora Uno con il peso Oggi Prendiamo Eliza E andiamo A lavorare Su uno dei terreni Prendiamo Il terreno Che mi pare Il 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 4 O il 17 Non mi ricordo Nemmeno Quali sono Sussi terreno Ah Allora Un attimo Il pieno Il pieno Allora Sacchi di simili Non dovrebbero esserci in giro Andiamo un attimo Ma mi pare di no E infatti Ok Calci Non ci sono problemi Gianluca Grazie Grazie Comunque Per Insomma Il fatto che Ti sei Fermato A stare qua È già qualcosa Allora Frumento E orzo Quindi Campo 14 Fammi vedere Un attimo Quanto è grande Sto campo 14 Campo 14 Sì Ci vuole L'altra Asseminatrice Sul 22 Con questo Qua Ah Gianluca E Sulle Configurazioni Diciamo Sono parecchio Pignolo Perché Le Le configurazioni Anche Il pc Che c'è Adesso L'ho Assemblato Io Allora Diciamo Che Ci vuole Un buon Rapporto Potenza Fra il processore E la scheda Grafica Perché Altrimenti Si crea Un collo Di bottiglia Però Ti consiglio Eventualmente Di Di rivolgerti Anche Magari A qualche Negozio Specializzato Perché Io Solitamente Mi danno Il budget In base In base a Quello Poi E A lusso Che ne Devono Fare Cerco Di Di Assemblarlo L'unico Consiglio Che ti dico Dato che Siccome Windows 10 Barra 11 Bevano Con la Canuccia Dalla Ram Io ti consiglio Un sistema Che abbia Almeno 16 giga Di ram Per Far sì Che Windows Non vada A saturare La ram E quindi Tu possa avere Anche Un margine Ampio Margine Di Di Ram Libere Quindi Se vuoi Fare lo Streaming O vuoi Fare Altro In background Ecco Ti permette Di 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 Girare Decentemente Ecco Quindi Non meno Di 16 giga Di ram Poi Ovviamente Non Entro Nel dettaglio Di DR3 DR4 Che Diciamo Tutto ciò Divende Sempre Dalla Compatibilità Della scheda Madre Con tutto L'hardware In generale Quindi Diciamo Che Però 16 giga Di ram Sicuramente Fanno Comodo E te lo Dico Per esperienza Personale Per chi All'inizio Su questo pc C'avevo 8 giga Di ram Ma Notavo Che Non era Fluido Nella Nel Nel Per far girare Alcune Applicazioni O giochi Un po' Più Pesanti Quindi Quando Ho fatto Il passaggio A 16 giga Ho visto Che Era molto Ma molto Più Fluido E poi Il mio consiglio Se Riesci a trovare Un pc Che abbia Il disco Principale Che Che sia Un ssd Quindi Non è Meccanico E poi Ti consiglio Quindi L'ssd Dove ci fai girare Windows E tutte le cose E poi dopo Un harddisk Meccanico Sul quale Puoi archiviare I dati Ok Non ti preoccupare Diciamo che Io Orientativamente Ti ho Ti ho Ti ho Fornito Un'indicazione Su I tre fattori Importanti Rapporto Potenza Ehm C più Quindi Processore E G più Scheda video Deve essere Più o meno Uguale Altrimenti Il bottleneck E' Praticamente Come se Ti tessi L'impressione Che frizza Si Non è Fluida E Questa E La situation Quindi 16 giga Di ram Però poi Se Diciamo Ti rivolgi A qualche Esperto Magari Lui Più Tipo A garbare Io Così Su due piedi Non Non Saprei Diciamo Come Darti Ulteriori Consigli Ecco Sì Sì sto lasciando la braccia mamma mia devo ripassare vedendo comunque devo ripristinare tutt'altrimenti qua quando devo venire a raccogliere anche se non è il campo vivo si perdono 10% buono buono caffè patacca il caffè che spacca quella buongiorno moreno carissimo caffè moreno e il sonno viene meno oh yes oh yes buongiorno a te buona carica caffeina per chi non conoscesse moreno cosa improbabile come sempre dico sempre scambiatevi il follow e andatelo a seguire naturalmente anche l'amico ita 2165 l'amico lupen 100 lupen l'amico Gianluca gaming games e buongiorno a tutti oh just chatting moreno ha fatto una chiacchieratina informale buono buono ah ottimo almeno così hai anche modo di provarlo è un ottimo software ed è leggermente più leggero rispetto ad OBS è abbastanza pesante però anche quelle molto simili ad OBS con le impostazioni auto tutte queste cose qua e poi te ne accorgerai non dico che è un derivato ma mi pare che si è prossimo dalla stessa cosa così ad occhio se mi trovo bene lo tengo sennò ah vabbè si ne ho gli ho provati tutti 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 quello lì diciamo che siccome io non ho un sistema particolarmente performante l'ho messo da parte però se avessi avuto una scheda grafica dedicata o una scheda grafica potente insomma l'avrei utilizzato ma fondamentalmente è identica e precisato bs con l'impostazione può ovviamente cambiare un po conti così fatto bene molto bene è vero sì anche quello ma tu comunque lo puoi cambiare anche nel pannello fa ora se non ricordo male mi pare che lo potevi fare direttamente su quasi twitch se non ricordo male della l'inserimento del titolo la categoria tutte queste cose qua con l'altro che utilizziamo io e tale per esempio prima di andare live c'è la stringa nella quale poi noi andiamo ad inserire tutte le informazioni quindi seppure praticamente non non hai settato i parametri prima su web twitch lo puoi sempre fare tramite l'applicazione infatti ti avvisa sempre prima di andare in live del titolo eventualmente ti chiede seppure se vuoi modificarlo no no che se non sta eh non ho acceso la la seminatrice qua ah no ma a che ora l'abbè scritto perché dopo devo andare a vedere che ho solitamente dopo le live vabbè a parte il fatto che mi fermo un po' così a salutare gli amici poi ah alle 21 allora quell'orario lì stavo ero praticamente facevo il mio soldo giro di canali fra ehm nick la zappa sotto poi ieri sono passato un pochettino pure da nick però e stavo dando una mano anche un altro amico a crescere quindi nick poi sono stato da drift allo stesso tempo stavo da la zappa storta sono stato da fernbus sono stato da ehm emanuela e insomma si come mi abitudine tutto su un solo monito quindi è per questo che ehm non sempre sono attivo in chat proprio perché ciclicamente più o meno ogni 10 minuti cambio live e quindi è per questo che non ti ho risposto ho visto che le visualizzazioni su sul bakery shop ho notato che piano piano stanno crescendo eh anche sul tuo canale sul mio ultimamente sta iniziando a ad interessare anche se è un giochino apparentemente banale invece man mano che vai avanti tu hai visto no? io sono andato leggermente più avanti rispetto a ti mamma mia quando ti iniziano a chiedere pure i dulci diventa un macello stasera comunque regolare la a due giochi ah ok allora stasera tutti da morino ci facciamo un giretto come è soldo da morino è tutto qua a domenica sera faccio un giretto veramente super super veloce poi il lunedì diciamo non ci sono per nessuno lunedì è proprio K.O cioè anzi riposo riposo quindi mi dedico un po' a fare le cosucce della vita privata oppure diventa il lunedì creativo nel quale poi crei sound alert o cose del genere oh yes oh yes se vuoi puoi entrare anche su discord così ci racconti un po' a voce le tue impressioni eh io pure io in generale sui social il lunedì è come quando arriva il il sabato e e spegni il cellulare perché vuoi stare come si dice a Napoli facitemi stacchi ovvero stare bello ah che uno stacca proprio la spina dice se ne parla lunedì ok dai intanto tu sei sempre ultra rapido ma dicci un po' cosa prepari il panino con la mortezza oppure il panino con la cipolla ah ma c'è domenico quindi qualcosa di più pronto ah cotechigno puno sono voletoli sono voletoli per diabetici come diceva in un in un famosissimo film il grande lino benfi il lino banfi cotechigno ottimo e le lenticchie stai facendo come si chiama last year last day of the year simulator capodan simulator e questo il campo purtroppo non è mio ci sono tanti dj un saluto al mitico dj sassi un altro amico del canale questo qui ma anche del canale del mitico morino oh yes oh yes dj sassi e anche tu potrai dire oh quando ballo ma questa musica è proprio è proprio tosta sarajipen sarajipen masagajipen secondo me stamattina starà proprio sonnecchiando a sonno pieno perché ieri sera ho visto che dalla zappa storta stavano era credo fosse luna più o meno e stavano ancora a trebbiare facciamo il lavoro per bene qua altrimenti Pasqualino il padrone della terra qua questo appezzamento di terra dice ma come hai fatto un lavoro una ciofeita e quello poi non ci chiama più dobbiamo guadagnare mucho everons mucho everons ok morino buona preparazione e buona carica pappatoria guardate che è arrivato ragazzi applausi applausi il mod il lambri buongiorno a te carissimo bentornato nel canale carissimo ah shadow ah ma hai cambiato uh ma hai cambiato canale cioè hai cambiato nome caspido mi hai preso all'aspiravvisto là bentornato ah caspiderino come stai innanzitutto buona domenica e buona carica caffeina se vuoi un buon caffè io ti propongo il caffè patacca e il caffè che sbacca il nostro sponsor ottimo dai ottimo caro shadow ottimo ed abbondante mi fa piacere soprattutto che l'ultima volta che ci siamo scritti insomma mi hai detto che le cose stavano già migliorando quindi ottimo ottimo ed abbondante direi 4 metri sì più o meno così ok bassa accendi e va come un riccio lambri come riccio vabbè l'importante è che quella situazione si sia risolta insomma però bisogna essere anche dei gentiluomini e al di là diciamo così di alcuni atteggiamenti non non proprio giusti dall'altra parte però è importante rimanere sempre nella parte del giusto e quindi evitando di poter risultare offensiva anche se uno dice sì ma se l'è meritata sai con me questo è il mio consiglio ovviamente poi ognuno è libero come dire di 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 ascoltare o eventualmente valutare ecco secondo le proprie il proprio modo di pensare sembra rimanere dei gentleman anche con chi magari non è che ci ha proprio trattato in maniera decente ma that's all a parte quello e poi è un sacco di tempo che non ti ho senti insomma veramente era un po' all'inizio non ho capito che ci sono alcuni perché questo lambri anzi il mod ci sono anche alcuni c'era un iscritto che pure ci aveva nel nickel mod quindi è per questo che l'importante che come dire tutti quelli che vengono accolti in questo canale vengono accolti allo stesso modo e poi ovviamente chi manca nel canale da un po' più di tempo comunque c'è quella quell'envasi in view che che viene fuori dalla voce ah e se lei ti è entrata nel cure allora arriva ad questo punto devi devi dico devi secondo me anzi dovresti iniziare un pochettino a capire le cose ovviamente poi ad essere ulteriormente gentleman come già lo sai però diciamo che bisogna mi sembra che pare che sta parlando mi pare che sta parlando a e che raggiù Grazie a tutti. Grazie. L'importante è che hai trovato anche un'altra brava persona. E dalle due parole mi sa, mi sa che, come si dice a Napoli, tieno il cuore rindo zucchero. Eh, il cuore è messo nello zucchero. Ah, ieri non male. Cioè, a parte sì, bene, la giornata. La live, vabbè, si sa che il sabato è sempre un po' così. Perché si va in giro, poi sta arrivando pure la primavera, mi sa che è domani. E quindi con le belle giornate, il fatto che, diciamo, ci sia una minor presenza in live è un buon segno. Vuol dire che le persone si vanno a divertire in live, però poi la serie invece in replica e le visual in generale dei video. Stanno andando bene, crescono. Anche gli ultimi video su YouTube. Con l'ultima serie che sto portando con Baker Simulator. Baker Shop Simulator. Anche quello, con la serie di Gigi non sta andando bene. Sì, tempo permettendo, credo che un periodo, diciamo così, non vado nel periodo di alta stagione, ma vado, diciamo, quasi a settembre. E mi fermo dieci giorni in tutto l'anno e quindi saranno dieci giorni di reset e di riprogrammazione del canale. Diciamo che su dieci giorni, otto giorni di svaga, poi gli ultimi due giorni, poi mi riprogrammo il canale per i cicli per tutto l'anno. E poi il lunedì, che sto, diciamo così, lo standby tattico, mi serve per riprogrammare la settimana e poi ovviamente, pure per staccare proprio dai social. Che è impegnativo. Al di là di quello che può sembrare. Ovviamente non è pesante come il lavoro che si fa a livello fisico, però comunque, chi come me, non ha un tecnico del suo, non ha uno che ti cura la... Diciamo così, la parte tecnica video streaming, ecco che il lavoro si triplica, a volte si quadruplica anche. E quindi, poi per come sto cercando di impostare, ho impostato il canale, l'interazione col pubblico e quindi può risultare ulteriormente pesante. Ma piacevole ovviamente, perché il fatto che le persone ti scrivono e come te magari mi convidano qualcosa, mi rende orgoglioso e mi fa capire che comunque più o meno quello che sto facendo, forse lo sto facendo in maniera decente, diciamo così. E' bello avere un rapporto di confidenza, ma anche di fiducia. Non solo con i paganti, ecco, ma anche con coloro che passano a salutare. Da questo punto di vista non sono molto veniale, ecco. Non sono uno di quelli lì che... Solo perché magari uno ti sostiene, allora saluta solo a quella persona e fa finta di non leggere i messaggi degli altri e che poi... a lungo andare... Le persone, quando capiscono che sei veniale, non ti calcolano più. Quindi di conseguenza... Perdi anche un po' di prestigio. E quindi anche questo che mi porta il lunedì a dire non ci sono per nessuno, né Facebook, né Instagram, né Twitch... Tranne in qualche caso eccezionale che è successo mai sette fa, che di lunedì sono stato su Twitch, ma per questioni diciamo di impegni. Ecco, come quando partecipavo alle live con il mitico la Zappa Storti, il presidentissimo, con Range Simulator la Domenica Sire. E poi lunedì sì, non ho spostato per un pericolo. E quindi questa è la situation. Scusate chat se vi ho fatto una capotanta, ma... A volte ci sono dei concetti che mi piace esprimere. Sempre con la dovuta educazione, chiaramente. Senza mai... ...uscire fuori... ...dai bordi. Allora è qua. Mi è rimasto soltanto un pezzettino là. Me ne devo... Seminare per bene questi cani per chi vuoi... ...a raccogliere... Vengo io qua e quindi... Più raccolgo... ...e più ho probabilità di... ...conservare qualcosina per me. Allora... Ecco qua. Ricordo che in alcuni punti... ...il lavoro non è stato fatto in maniera ottimale. Ovviamente approfitto anche per... ...salutare i moderatori del canale. Elisa. Ehm... Gippo. La Zappa Storta. Il mitico Morino. Ehm... Poi... Talebano77. Ehm... Fernbus08. Ehm... Cirillo. 1974. Il mitico Cirillone. Che è tornato anche lui in live. E invito a passare nel suo canale... ...ad iscrivervi. E soprattutto ricordatevi di attivare la campanellina. Sia su Twitch e su YouTube. Ma anche ovviamente... ...attivate le notifiche audio... ...sui vostri dispositivi mobili. E ovviamente ringrazio tutti... ...tutti i moderatori. Anzi direi di fare un applauso sia... ...ai moderatori di questo canale... ...ma in generale... ...a tutti i moderatori perché... ...eh... ...fanno un... ...un... ...hanno un arduo compito quello di moderare... ...ma a volte anche quando ci sono... ...gli attacchi bot... ...quello di... ...dare una mano allo streamer e quindi farlo stare... ...più tranquillo. E quindi un applauso a tutti tutti tutti... ...i moderatori di tutti i canali. Applausi. Ah, mi stavo dimenticando di Chiara Error 404... ...ovviamente un'altra... ...moderatrice ma anche amica streamer... ...recca ma... ...man mano... ...mi vengono in mente. Comunque... ...anche se non vi ho... ...eh... ...non vi ho nominati... ...sappiate cari... ...moderatori del mio canale... ...che siete i number one. O yes o yes. ... Allora... ...questo è fatto... ...quindi... ...allora... ...allora... ...ho... ...3.000 Evernons. ... ...buttali via... ...come... ...dice... ...il... ...presidentissimo... ...la già fa stavolta... ...ho detto, ho detto... ...ho fatto... ...ho... ...inco qua sbagliato... ...allora... 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 un attimo soltanto e sono subito da voi ok 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 allora per andare alla farm tagliamo di qua e andiamo a prendere l'altra seminatrice penso che ho sbagliato qua sembra dritto sì sì oh yes allora questo quasi quasi lo lascio qua perchè mi torna... potrebbe tornarmi utile e allora l'altra cosa era... frumento ok questo dovrebbe essere il frumento no ecco qua campo 17 14 ok quindi 14 bello grande quel campo bello speriamo di poter raccogliere poi qua arrivato a questo punto raccolgo pure io un po' di fomento qua dove seminare ma questo lo facciamo after this mission si questo lo dovrebbe anche fare intanto abbiamo anche la la seminatrice grande qui moreno 91 trattino basso trattino basso br ha appena brindato con 50 caffè grazie mille cir 50 caffè patacca nel mentre aspetto che si cucina resto grazie moreno grazie grazie per i caffettini qua e allora facciamo partire l'inno della zappa l'inno della zappa land oh yes oh yes oh yes e facciamo anche 400 applausi o yes o yes grazie caro moreno grazie per il sostegno oh no no che ha fatto ragazzi ragazzi quasi passe 3 sono nei pasticcioli c'è già due volte per chi si fosse persa la prima parte per due volte consecutive sono riusciti a attraversare l'attraversamento ferroviario poco prima che arrivasse il treno mentre si stavano abbassando le sbarre mi sono proprio fatto fatto sotto ma si vuole che devo accendere ah lo sai c'ho lo stesso problema c'è problema la stessa cosa capita anche a me io il mouse alla fine è l'unico dispositivo che resta sempre illuminato ci sarebbe un modo per farlo spegnere dovresti inserire un interruttore dovresti modificare il cavo del mouse e mettere un piccolo interruttore sui cavi rosso e nero che sono i cavi dell'alimentazione dovresti spegnere il filo aprirlo però se non ti dà fastidio non è un problema a me rimane acceso ma la luce è molto fiocca quindi si vede poco 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 o anche si o puoi anche staccarlo direttamente il mouse da dietro tanto comunque devi mettere le mani dietro al case che staccare l'alimentatore non so se faccia bene a tutta la parte della componentistica elettronica o se ce l'hai messo su un hub switching puoi sempre schiacciare il pulsantino e fare disattivation una delle prossime spese che devo fare devo prendere una semiatrice più grande che questa su alcuni campi è un maciello anche se tutto sono magro ah ok ma se c'è il lup il lupi s la problemi non dovresti avere perché in caso ti sbalzi di tensione lui ti fa a te li va a te li fa mantenere costanti eh anche quando ci sono gli abbassamenti di tensione è la stessa cosa ah ok allora il discorso cambia quello è l'ideale quello è l'ideale infatti pure io ce l'ho c'è lo stabilizzatore sia collegato qui al pc e sia collegato sotto alla radio cb collegato alla alla all'alimentatore a 12 volts eh se uno non ne ha bisogno non è che diciamo così non sono articoli molto conosciuti ecco però sono utili sia per gli sbalzi di tensione c'è l'abbassamento che la maggior parte delle volte lo stabilizzatore lupi s mi attacca quando ci sono dei cali di tensione che ogni tanto capita no soprattutto d'estate i cali di tensione della corrente scena e quello può danneggiare diciamo che se non arriva la tensione buona forse si può anche spegnere con lui e poi anche per i sovraccarichi stessa cosa è ottimo io in realtà ne ho preso uno un thrust da 1000 volt ampere io ho sostituito anche una batteria all'interno che era da 6 mi pare ampere ora e io ho messo una da 12 ampere ora che allunga un pochettino la durata del funzionamento perché avendoci anche collegato il il modem che io ho la voip la fibra misturana allora per la parte fonica mi serve il modem e quindi ci ho assicurato almeno quella più la base principale la basetta del telefono principale collegate quindi sempre alimentate e sempre filtrate ho messo una piccola ciabatta dietro alla scrivania dove ho collegato tutti i dispositivi collegata all'ups modificata la ciabattina la spina l'ho modificata ho messo anche un filtro di rete per evitare che le interferenze dei lampade a led possano rientrare quando registra e sono stati piccoli accorgimenti che ho fatto sto facendo una cosa ah se no scrivo ah non ti preoccupare vai tranquillo vai così non ti preoccupass ma meno male che sta seminatrice c'è anche il fertilizzante almeno così riesco anche a vedere dove è che non si è passato qua però devo andare lì dovrei essere lì così caffè morino e il sonno viene meno caffè patacca il caffè che spacca in collaborazione con il panificio di gigino e anche tu e anche a te cadrà il dentino perché fai non fai il pane morbido gigino la serie di bakery 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 shop simulator che vi invito a guardare su youtube il prossimo appuntamento gigino il panettiere gigino ecco ogni tanto verrà tenuto a bacchetta dalla moglie ogni tanto lo chiamerà e gli dirà gigino gigino mi raccomando fa bene buono per chi non conoscesse il napoletano ecco significa gigino fa il pane bene fallo bene fallo buono gigino e ovviamente gigino è di origine brasiliana quindi è per questo che gli amici lo chiamano gigino 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 panettiere un saluto agli amici brasiliani quindi stavo parlando di una serie divertente con il simulatore del bakery shop e ho chiamato il bakery il bakery il bakery il bakery la gigino e questo è una attributeda del luce Luigi Luigi Gigi e questo è mio padre mio amico gigino e sto cerrando questo funny series of a bakery shop simulator and the baker the master baker I called him Gigiro and you will see some funny things watching my streaming and my contents oh yes Allora ragazzi ho visto che c'è anche fernobus in live fra poco quando finiamo la live vi chiede la gentilezza poi di restare nel ride così lo andiamo a saltare un pochettino anche lui in questo momento sta portando farmico 22 adesso continuiamo poi mi raccomando ovviamente se restate nel ride guadagnerete 250 punti esattamente i punti così esatto bravo morì esatto e quindi facciamo girare un po' quando possiamo wiii ragazzi macho king ragazzi ho freed un guolo macho wow macho che onore averti aspetta che mo ti faccio lo shotottino qua ecco qua ragazzi applaudi applausi a maschio agreail our office to literacy in ieri sera ho visto che edi credo solo in chat vocale forse da zappa bentornato ragazzi ovviamente invito a passare il canale di macho king perché anche un canale youtube che si chiama massimo al ragazzi massimo massimo allora massimo gen genghini passate nel suo canale anzi quasi quasi mo metto anche il link così gli amici che guardano anche su youtube gli vanno a mettere un bel follow al canale eccolo qua azzurrissimo buongiorno azzurrissimo grazie grazie anche da azzurrissimo facciamo un bello shoot oh ma io qua in chat vedo arvid arvid buongiorno a facciamise mitico arvid arvid non so se è iscritto ma se è iscritto e non do risposta ti chiedo scusa anche l'amico arvid è un altro bravissimo streamer che che vi invito a passare il canale seguitevi a vicenda ecco facciamo girare un po i canalozzi qua a arvid ti chiedo scusa ma non me ne sono proprio accorto mamma mia moto letto mentre faccio lo shoot out e vedi quando uno sta sta così sta preso da quello che deve dire per non fare le gaffes ecco che che si che capita sta cosa qua a ieri sera poi fra i tanti switching poi c'era anche arvid vatti arvid se ne sarà accorto ieri che ogni tanto mi sentavo dalla chat perché chi mi conosce sa che quando ci sono gli amici streamer in live cerco di essere presente in tutte le live ovviamente al cubo anzi erano ne erano dei camisa ieri sera avevo dieci piccole finestrelle sul twitch aperte ogni tanto giravo come è andata poi la raccolta del fieno di ieri sera qualcosina la venduta allora qua è mocio pochissima però non ricordo se ho lasciato mi pare ho lasciato mi pare un sacco di fertilizzare mi pare allo show da gigino e meccanico qua anzi più che gigino qua si chiama vecienzo vecienzo meccanico vincenzo e meccanico andiamo da vincenzo dal signor vincenzo e andiamo a vedere se abbiamo lasciato nel piazzale qualche sacco oh mamma mia ancora deve finire ma più che l'erba ti converrebbe usare il mais perché altrimenti non finisci più di creare con l'erba ci impieghi un sacco di termine invece lasciando un po' di pula riesci a farlo molto ma molto prima secoli prima allora eh mi ricordavo che ho lasciato un sacchetto qua ma la pula comunque ne produce molto di più eh fidati io l'ho capito dopo un bel po' di ore su farming 19 che stavo là e tagliavo 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 e non si riempiva mai la terra il piccolo arriva ad un certo punto e andai ovviamente google mister google che non si paga scrissi come creare l'insilato più rapidamente e mi usci scritto utilizzando la pula con la trincia e questo cacchio ecco questo ma non me ne sono accorto comunque ho iniziato a produrre insilato ma proprio in quantità industriale ho fatto ho interrato un bunker fra pula ed erba ho fatto oltre due milioni di litri insomma un record assoluto eh 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 ma ci ho impiegato un sacco di tempo per capire questa cosa qua ma te all'inizio pure li tagliavo tagliavo ma diciamo ma questi questi come fanno e ci impiegano io ci sto impiegando nel gioco ci ho impiegato un sacco di tempo un sacco di ore e vedo quelli lì che invece subito faccio ora non ricordo se ho fatto il mix ma era arrivato a un certo punto che era arrivato un po' un po' spazienti uh cirillo wow anche a te ho nominato prima fra i i nostri amici e moderatori del canale esso yes yes ragazzi ecco il famoso cirillo di cui vi ho parlato prima facciamo lo shootout così vedete potete vedere anche il link del suo canale il mitico cirillo cirillibus hey amus cirillibus oh yes oh yes per chi non lo conoscesse cosa improbabile cirillo è un altro bravissimo streamer e ho scoperto che è telecce l'amico mio l'amico mio cirillo è telecce telecce guagnoni eh siamo ma siamo a fare sacca sacca seguire lui cirillo e dai su io sono lady 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 baccarazzo io sono chiarina con pijama rosa ma no ma no io sono lady 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 baccarazzo ma sono chiarina ti mando del trapozzo ah figuro di cirillo in realtà ti ho detto io prima di andare prima di chiudere le live mi faccio sempre una do un'occhiatina in giro se ci sono gli amici streamer perché almeno così come adesso se ci sta qualche amico streamer o amica streamer che magari sta crescendo allora cerco di dare una mano pure a loro a crescere che comunque ci sono passato pure io per questo e quindi cerco di nel mio piccolo di dare un piccolo contributo pure a loro e quindi tu ben sai che sta cosa l'ha fatta anche il mitico fan bus 08 con me quindi a parte che dopo un sacco di tempo ho scoperto che il ride poi portavano il pubblico in un altro canale e quindi quando posso ovviamente cerco di dare un piccolo contributo seppur diciamo sono diciamo così contributi non particolarmente grandi però diciamo che tante volte uno non conosce nemmeno un canale fan bus quando guida in lato questi ci fatti conti sciatta e disate come sei fatto che tu sei fan bus esatto perché poi fan bus è un signore anche umanamente parlando quindi lo faccio veramente queste cose le faccio in maniera tranquilla e disinteressata eh Cirillo a te è difficile lo sai a te è veramente difficile perché devo ancora imparare e capire le sfumature e le caratteristiche tue per ora non mancherà sicuramente ci vorrà tempo sicuramente perché ho promesso anche a a Coviros e Morven l'ho promesso a Macho King l'ho promesso a cazzo ancora l'ho promesso ad Arvid direttamente e insomma ne ho ancora da fare un bel poco quindi piano piano cercherò di accontentare tutti qua almeno così qualora dovessi diventare qualora qualcuno in più mi dovesse conoscere ah tab zio tab si quello là che si divertiva a fare i sound alert con gli altri canali eh si dice perché lui non se le fa eh ragazzi il tormentone punto esclamativo pitti dai ragazzi e ho saputo che pitti anche lui finalmente è andato in live ragazzi è partito ne ho sentito ne ho sentito in tripla fonia ragazzi grazie ancora e ragazzi è mai come adesso in questo momento ragazzi andate nel canale di pitti anzi gli faccio lo shoot out così tutti quanti esatto grazie andate nel canale di pitti seguitelo e seguitelo seguitelo perché anche lui finalmente dopo avergli creato dopo aver creato l'inno del suo canale finalmente anche lui si è deciso di andare in live quindi proprio per premiarlo mi raccomando dobbiamo arrivare a meno a meno a meno a un milione di followers nel canale di pitti e poi pitti vi regalerà il trattore che utilizza nella sua farm e poi magari ce ne regala qualcuno pure a noi ottimo guarda ci puoi acquistare anche una fornitura di caffè patacca oppure caffè moreno e il sonno ti viene meno caffè patacca e il caffè che spacca quindi tutte e due caffè si possono usare uno alla mattina è una pomeriggio quando ti viene la bioc gli alterni ci ha morito amaro bannato com'era mi sono scordato amaro amaro pitti e digerisci ah mi sono scordato me lo devo andare a ritrovare ahiaiai pitti mi hai messo in difficoltà bravo bravo hai capito eh la rima che ho pitti effettivamente è complicatucce amaro pitti wow mamma mia pitti me lo devo andare a ritrovare amaro bannato e la giornata bravo bello arvid grande ragazzi a proposito chat iniziate a pensare un motto per amaro pitti o bannato vediamo un po' ragazzi che effettivamente questo è interessante questa challenge scrivete scrivete così prendo spunto e poi ovviamente quando uscirà e se uscirà lo sponsor metteremo custod... oh luciano aiuto ragazzi è entrato zio luciano e voi non mi dite niente applausi o forse non me ne sono accorto o me ne sono accorto non me ne sono accorto non me ne sono scordati ah i ragazzi ah forse era amaro luciano mi sa e può darsi amaro luciano amaro luciano amaro luciano 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 amaro luciano amaro luciano e digerisci con il pano e digerisci paro paro amaro luciano e digerisci paro paro digerisci piano piano wow grande eh applausi quando si dice lui sei la canta e lui sei la sua ci ha fatto pure gli arrangiamenti e ha dire ha diretto anche l'orchestro amaro luciano ah amaro luciano e il bicchiere si scioglie in mano wow talmente che è forte no amaro luciano e il bicchiere si scioglie in mano ah ragazzi 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 e questo mi sa che la clip la devo tagliare la devo inserire in una in una situation comodi allora ragazzi andiamo un po' abbiamo fatto amaro luciano che prodotto possiamo invece associare a Cirillo ragazzi questo è difficile allora Cirillo e e Telecce cosa potremmo fare a Lecce 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 il tronco fatto con le amarene se non ricordo male allora ragazzi qualcosa che sia che ne so amarena Cillo la amarena ragazzi questo è difficile questo ve lo dico è proprio difficile allora il tronchetto a Lecce c'è il pasticciotto ok quindi qualcosa che sia qualcosa tipico di Lecce ragazzi qua mi dovete dare una amarena allora ragazzi se fosse stato Cirillo 1978 avrei potuto dire Cirillo 1978 e ti fa il pasticciotto ma siccome è 74 ma siccome è 74 il panino lo fa tutte e quattro ha 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 oh grazie macho non devi preoccupare tanto poi anzi ragazzi ragazzi se restate facciamo un ride subito subito facciamo un ride a fermo studiamo un po' se c'è ancora lui uno allora ragazzi vi do la gentilezza di restare in live visto che siamo tanti facciamo il ride a chiara a chiara error 404 che è un'altra bravissima amica streamer e allora ragazzi siamo arrivati al termine di questo appuntamento ringrazio tutti tutti quanti voi ovviamente ringrazio tutti quanti voi per la compagnia naturalmente per voi che state guardando questo video in replica su twitch la programmazione riprende fra 24 ore e quindi riprenderà per voi che siete in live ancora vi chiedo ancora di restare andiamo a fare un bel salutino alla mitica chiara per chi non è iscritto al suo canale come sempre vi invito a lasciare un bel follow e quindi a seguirla e allora ragazzi restate ancora grazie mille a tutti thank you so much e state un buono a you ciao e buona continuazione a tutti alle pendici del monte cucco nasce la società agricola bio i piani la genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli da noi troverai farro ceci lenticchie e farine di farro ceci e di grano duro scegli il vero bio italico buono e genuino scegli i prodotti di i piani bio i piani bio mangio bene anch'io www.ipianibio.it ci trovi anche su facebook ed instagram